La musica torna Oxan Italia per il territorio. Si tratta di un progetto televisivo con cui l'orchestra sinfonica Giacchino Rossini intende annunciare le proprie iniziative. Programmi, interpreti, professori d'orchestra saranno loro i protagonisti di un racconto che ci accompagnerà durante l'intera stagione musicale. Amici e amici di Rossini TV, benvenuti, benvenuti a una lunga serie di appuntamenti nei quali conosceremo l'orchestra sinfonica Rossini e quello che succederà i prossimi mesi in questo teatro, ci vedete in questa meravigliosa sede, il Teatro Rossini di Pesaro. Salutiamo subito gli ospiti che sono con noi questa sera, Paolo Rosetti, buonasera. Buonasera a voi. Fabio Lassanti, buonasera. Buonasera. Pensate che li vedete seduti in queste sedie a quasi a livello così, possiamo dire manageriale, sono due musicisti, due straordinari musicisti dell'orchestra che si sdoppiano nei loro ruoli e nel caso di Paolo Rosetti abbiamo per esempio di fronte a noi il direttore artistico dell'orchestra sinfonica Rossini. Paolo Rosetti di Bologna, qui a Pesaro, una stagione che si preannuncia davvero da non perdere. Sì, non vediamo l'ora di cominciare, è veramente un onore, un piacere presentarla qui da voi, grazie per l'attenzione e l'affetto che ci dedicate. Una stagione che prevederà Rossini, tante cose, un repertorio molto vasto e vogliamo dare proprio un indirizzo generale di quello che succederà ai prossimi mesi a cominciare sin dal mese di novembre, considerate che poi ci dipaneremo per metà 2025, a proseguire quest'onda lunga di Pesaro capitale della cultura. Sì, la natura, la volontà dell'orchestra è sempre stata quella di diversificare l'offerta al pubblico. Non ci siamo mai fossilizzati su un unico genere o su un unico format, ci piace sperimentare. Il sovrintendente, il maestro Salsalucci, dice sempre che tra le caratteristiche c'è quella di non accontentarsi mai e quindi di cambiare sempre. Ovviamente si cambia cercando di migliorare volta per volta e di aggiungere sempre un colore a questa tavolozza che ormai comincia ad avere veramente tanti colori diversi, quindi tanti generi musicali diversi, tantissimi attori sul palcoscenico, dall'orchestra, protagonista assoluta, a solisti, direttori, cantanti di indubbio livello mondiale. Che effetto fa rivestire questo doppio ruolo che delle volte la porta a scendere in campo, anzi proprio in orchestra e invece a guardare poi le cose dall'alto per organizzarle al meglio. Come ci si può orientare? Guardi, sicuramente non è una cosa che amano fare tutti, c'è chi preferisce stare o da una parte o dall'altra. Io devo dire che fin dai primi anni ho sempre amato affiancare l'attività prettamente musicale a tutto quello che è la complicata macchina che sta dietro, sia concettuale che operativa. Ho trovato nell'orchestra sinfonica Rossini un po' una casa perché qui tantissimi, a partire dal sovrintendente, sono anche musicisti, magari qualcuno nel frattempo per la mole di lavoro ha smesso di suonare in orchestra, però la dirigenza nasce in orchestra e quindi mi sono sentito in questo proprio a casa e mi piace affiancare anche perché permette di stare al contempo sia fuori e quindi vedere tutto quello che succede in tutta la fase di preparazione al concerto, sia poi vivere sul palcoscenico perché anche la prima fila è vicinissima a ciò che succede sul palco ma stare effettivamente sul palco dà tutta un'altra visuale del prodotto musicale diciamo così. Per la cronaca Paolo Rosetti primo fagotto, quindi lo segnaliamo, ma poi evidentemente questo doppio ruolo porta la capacità di vedere le cose dalla parte del pubblico e infatti ci sono tante novità nella stagione di quest'anno che sono state concepite e recepite per come possiamo dire mettere il pubblico nelle condizioni migliori di ascoltarvi. Sì, in realtà quest'anno abbiamo diciamo così scritto su carta quello che negli anni abbiamo man mano limato e portato ad essere un po' il format che il nostro pubblico conosce e dimostra di apprezzare. Quindi noi cerchiamo di dare, intanto abbiamo abolito ad esempio per fare un esempio la pausa in mezzo al concerto, di solito i concerti sono costruiti con una prima parte, una piccola pausa e poi una seconda parte. A costo di ridurre un po' la parte musicale che diamo al nostro pubblico ci concentriamo in una parte unica per proprio per accompagnare chi viene ad ascoltarci lungo un viaggio che comincia e finisce assieme intervallato di solito con due, uno, due, tre a seconda della lunghezza del programma momenti in cui raccontiamo al pubblico come può ascoltarci meglio. Anche questa è una cosa nata un po' così per gioco e adesso invece l'abbiamo portata su cartellone e si chiamerà sentieri musicali. Questo perché come diciamo sempre quando si va ormai in un museo credo che non ci sia nessuno che non ritira un audioguida per capire meglio quello che sta succedendo. Ecco il concerto invece è rimasto delle arti una delle pochissime in cui si entra senza avere una didascalia che non deve mai distrarre dall'ascolto che è sempre un'emozione deve essere fatta senza filtri ma che aiuta a cogliere meglio i particolari del quadro che andiamo ad osservare. Certo e nella fattispecie andiamo addirittura ad ascoltare perché qui si parla anche di per esempio nel corso della stagione che stiamo proponendo di cicli e anniversari importanti di nomi che chiunque conosce nella storia della musica. Sì sì naturalmente cicli e anniversari sono un po' così la scusa che prendiamo per programmare grandi nomi e sono spunti dai quali parte la programmazione. Il nostro direttore principale maestro Daniele Hagemann ha proposto un ciclo betoveniano che abbiamo raccolto e accolto con grande entusiasmo. Beethoven è sempre un compositore amatissimo dal pubblico e che fa benissimo all'orchestra nel senso che proprio ci forma come orchestra, come suono dell'orchestra sinfonica e quindi prosegue il secondo anno, prosegue questo ciclo betoveniano che non si concentra solo sulle sinfonie anche se ci saranno sinfonie di Beethoven in programma ma anche sui concerti per esempio per pianoforte orchestra e per violino orchestra. Quindi pensate che straordinarie opportunità, occasioni, solo sentire questi nomi vengono un po' i brividi. 75 minuti una durata standard proprio si può anche saperne di più su tutto quello che avviene con la tecnologia e poi ne parleremo anche con Fabio Lassanti quindi il pubblico è messo nelle condizioni di poter sapere tutto. Si è un linguaggio, la musica è un linguaggio molto diretto noi siamo circondati dalla musica tutti i giorni e chi non canticchia sotto la doccia la ascolta alla radio nelle pubblicità eccetera eccetera però è anche un linguaggio che ha bisogno sicuramente di un ponte per essere compreso meglio e quindi apprezzato di più ecco non non si vuole pretendere di spiegare in maniera complicata il linguaggio musicale che è un linguaggio particolare che naturalmente richiede anni di studio però saper comprendere meglio secondo noi significa poterlo apprezzare di più. Pensate che immagine suggestiva farsi una doccia con la nona sinfonia in quel momento in cui proprio è eccezionale e vogliamo dare un'occhiata anche al programma velocemente per capire esattamente proprio i dettagli. Si qui mi faccio aiutare dagli appunti così sono sicuro di non sbagliare noi apriremo con il concerto di natale giovedì 19 dicembre in programma il meraviglioso Magnificat di Johann Sebastian Bach e poi dopo il tradizionale concerto di capodanno che anche quest'anno facciamo in tre sedi Senigallia Fano e Pesaro e ai quali sottolineiamo sarà dedicata la prossima puntata. Quindi vi aspettiamo perché è un programma da non perdere. Poi il ciclo Beethoven di cui parlavamo poco fa con il nostro direttore principale Daniele Haggiman e lì ascolteremo la quinta sinfonia, la famosa sinfonia del destino. Di nuovo Beethoven a febbraio assieme a Stravinsky avremo ospite per la prima volta Orazio Sciortino che è un pianista meraviglioso, un ottimo compositore e direttore d'orchestra, non vediamo l'ora di accoglierlo. A fine febbraio come lei sa il 29 febbraio è il compleanno di Gioacchino Rossini quindi non possiamo che non festeggiarlo tutti gli anni tranne una volta ogni quattro anni e quindi anche quest'anno faremo un concerto lirico sinfonico aderente a quella che è la nostra natura. Torneremo su Beethoven con una violinista meravigliosa, Vaitas, Antivaitas che si esibisce raramente in Italia ma è una violinista con un curriculum incredibile e anche lei debutta su questo palcoscenico per la prima volta e quindi siamo molto emozionati. Poi avremo un concerto in cui arriverà ospite un'orchestra da Lussemburgo che non vediamo l'ora di ascoltare, anche questa è una novità e ci fa molto piacere regalare al nostro pubblico anche un timbro vocale diverso, orchestrale in questo caso rispetto a quello che sono abituati ad ascoltare. La natura nostra è anche quella di strizzare l'occhio a quella che non è la musica prettamente classica e quindi avremo la musica da film che di fatto ormai è musica più classica del classico ma con grandi colonne sonore e il nostro Roberto Molinelli sul podio che il nostro pubblico ama e conosce perché è uno degli arrangiatori, trascrittori, orchestratori più famosi d'Italia. Quindi io credo l'ultimo appuntamento lo lascio presentare alla collega ed è una particolarità della nostra orchestra che ormai ha passato il decennio quindi comincia ad essere adulta. La collega è Fabiola Santi che è stata insieme a noi durante questa chiacchierata. Fabiola Santi che è flauto e ottavino quindi anche lei appunto poi gli piace andare a suonare quindi a rendere davvero viva la musica. Una piccola curiosità, siccome molto spesso capita di pensare che la musica sia estranea tante cose pratiche della vita, così non ho, così non è, ma ci sono delle affinità fra la musica per esempio e materie scientifiche, ma come lei era brava in matematica? Assolutamente sì, modestamente. Per dirla proprio. Sì, sì, era la mia materia preferita, io sono perito informatico tra l'altro, ci tengo a dirlo, quindi ecco nel mio percorso di studi c'è stata matematica, informatica, elettronica, sistemi elettronici, quindi una grande passione che poi riesco anche a conciliare col mio lavoro. Esatto, perché è l'ufficio stampa, quello che proprio poi si occupa della comunicazione, anche dei nuovi metodi di comunicazione, quindi c'è questo connubio. Assolutamente sì. Così sorprendente insomma. Esatto. Con la chimica? Chimica sono poco ferrata. Più matematica. Più matematica assolutamente sì, quindi dispositivi, sono grande appassionata di telefonia, computer ecco e anche a livello orchestrale io per esempio spesso e volentieri suono con il tablet, quindi molti colleghi no? Diciamo che all'interno di un tablet dimensioni limitate possiamo avere davvero tutta la biblioteca musicale scoperta ed è comodo. Quindi pensate, care amiche e cari amici, magari venite a vedere il concerto, finisce il concerto, incontrate Fabio e lei gli chiedete qualcosa sul telefono, per esempio sui nuovi, sugli abbonamenti, queste cose, sicuramente soprattutto. A parte gli scherzi però adesso andiamo su quello di cui vogliamo parlare, cioè la parte pratica, la parte proprio con cui rendere concreta la partecipazione ai concerti dell'orchestra sinfonica rossiniana. Come facciamo Fabio? Allora abbiamo innanzitutto un abbonamento a tutta la stagione, tranne degli eventi speciali di cui poi parleremo. Quindi abbiamo sette concerti e l'abbonamento ha un costo di 70 euro. Saranno in vendita a partire dal 20 novembre, acquistabili al botteghino del Teatro Rossini oppure online su Viva Ticket. Quindi ecco, a un prezzo assolutamente popolare, abbiamo sette concerti in postazioni che possiamo scegliere in platea primo e secondo ordine, quindi diciamo le migliori all'interno del teatro. Per chi invece preferisce possono essere acquistati biglietti singoli per tutti gli spettacoli e i prezzi vanno per tutti i concerti dai 5 ai 15 euro, tranne il concerto di Capodanno che è quello diciamo un po' più speciale che va dai 10 ai 20 euro. Biglietti in vendita sempre online su Viva Ticket o presso il botteghino del Teatro Rossini dal 4 dicembre. Beh comunque sono effettivamente prezzi diciamolo abbordabili. In poche parole è evidente l'obiettivo di aprire la musica a tutti. Assolutamente sì. Inoltre c'è anche possibilità di ottenere riduzioni scontistiche ulteriori iscrivendosi con una quota annuale pari a 10 euro all'associazione Amici dell'Orchestra Sinfonica Rossini. Per iscriversi durante i primi concerti della stagione ci sarà un'apposita postazione all'ingresso del teatro, altrimenti nel nostro sito www.orchestrarossini.it c'è il modulo per aderire e altrimenti si può contattare il presidente dell'associazione, l'avvocato Pamela Salucci. Esatto e poi ci sono anche degli eventi speciali però. Esatto, degli eventi speciali. Partiamo dal 29 novembre, concerto anteprima presso l'azienda agricola Deleiva. Sarà un concerto davvero speciale perché all'interno sarà presentato anche, sarà presentata una chicca che poi non vi svelo ma verrà svelata nelle prossime puntate. Quindi concerto anteprima 29 novembre presso l'azienda agricola Deleiva e poi concerto di Natale ad ingresso gratuito con raccolta fondi per il progetto adozione di vicinanza abbraccia un bambino della Caritas diocesana. Sarà il 19 dicembre presso la cattedrale di Pesaro, quindi assolutamente aperto a tutti e un programma bellissimo come già detto da Paolo. L'ultimo concerto non in abbonamento sarà la serata finale del concorso Giovani in crescendo, arrivato alla dodicesima edizione se non sbaglio, che vedrà arrivare a Pesaro musicisti provenienti da tutte le scuole d'Italia di ogni ordine e grado. Grazie anche perché ci ha già anticipato, ha fatto un piccolo spoiler sulla prossima puntata. Avremo protagonista anche l'azienda Deleiva che entra in questo progetto con una idea abbastanza particolare. Vi ringraziamo, grazie Paolo Rosetti. Grazie voi, grazie. Grazie Fabiola Santi, grazie per essere stati con noi. L'appuntamento alla prossima puntata nella quale vi sveleremo già alcune cose che succederanno entro l'anno. Continuate a restare su canale 80 di Rossini TV. Buona serata a tutti voi. Grazie a tutti.